Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con la cronaca e con un altro schianto fatale sulle strade abruzzesi a perdere la vita Questa mattina all'alba l'uscita dell'asse attrezzato a Brecciarola, una 24enne di Moscufo che si stava recando al lavoro in un bar Illeso l'autista del camion con il quale si è scontrata la Opel guidata dalla vittima. Vediamo Un tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 6 all'ingresso dell'asse attrezzato in località Brecciarola di Chieti Dove è morta una ragazza di 25 anni di Moscufo La giovane di Moscufo in provincia di Pescara si chiama Fabiana Poli ed era alla guida della sua auto, una Opel Corsa Quando per causa in corso di accertamento avrebbe invaso la corsia opposta finendo in un impatto frontale Contro il tir condotto da un 46enne di Frosinone rimasto fortunatamente illeso La ragazza che faceva la barista si stava recando al lavoro e viaggiava in direzione Chieti Sono stati vani i soccorsi del 118 perché la 24enne è morta sul colpo Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Chieti oltre ai vigili del fuoco Il PM della procura teatina, Lucia Campo, ha disposto un esame esterno della Salma Che è stato condotto all'obitario dell'ospedale Santissima Annunziata di Colle dell'Ara Due feriti in un incidente stradale avvenuto a Villa Raspa di Spoltore in provincia di Pescara Ieri sera dopo le ore 23 per cause non ancora accertate si sono scontrate frontalmente due auto Una condotta da una donna di 77 anni, l'altra da un uomo di 68 anni Il violento impatto ha fatto finire uno dei due mezzi a diversi metri di distanza I due conducenti sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e della Croce Rossa E trasportati all'ospedale civile di Pescara La donna è stata giudicata guaribile in 45 giorni L'uomo in 60 giorni per un politrauma e frattura Entrambi sono ricoverati nel reparto di ortopedia Accertamenti e indagini sono in corso da parte degli agenti del distaccamento della Polizia Stradale di Penne Da ieri sono in stato di agitazione e hanno interrotto tutte le relazioni sindacali Le sigle che rappresentano gli agenti della Polizia Stradale di Pescara e provincia Protestano contro la cronica carenza di personale che mette a repentaglio la sicurezza sulle strade Orazio Colantuono, responsabile del CULP della Polizia Stradale In rappresentanza qui di tutte le sigle sindacali Insomma, si sono interrotte queste trattative e avete lanciato una sorta di grido d'allarme Esattamente, come abbiamo scritto nel documento che abbiamo consegnato ieri Unitario tra tutte le sigle firmatarie SAP, SIAP, SILPCGL, COISP, UGL Polizia e UIL Polizia Abbiamo interrotto le relazioni sindacali perché le condizioni in cui siamo arrivati alla Polizia Stradale Non sono più sostenibili Non condividiamo più le scelte organizzative di impiego del personale Che penalizzano fortemente sia l'utenza autostradale che quella ordinaria C'è sempre un problema comunque legato all'organico Esattamente, nel corso degli anni, a seguito di una serie di tagli lineari Il personale si è ridotto di almeno il 30% Quindi non abbiamo serie difficoltà ad organizzare questi servizi E l'amministrazione poi predilige l'impiego in autostrada Sguarnendo però la viabilità ordinaria dove, come abbiamo visto, negli ultimi due giorni Accadono gli incidenti mortali Quindi andiamo a fare prevenzione in autostrada Dove, dati di statta la mano, gli incidenti mortali sono in forte diminuzione A discapito di quella viabilità ordinaria dove purtroppo gli incidenti mortali accadono Ora torniamo a parlare dell'inquinamento del fiume e del mare a Pescara E arriva la presa di posizione del sindaco di Tocco da Casauria Ovvero Luciano Lattanzio che replica al primo cittadino di Pescara Marco Alessandrini giudicando scorretto addossare la colpa ad un comune di appena 3.000 abitanti Tocco da Casauria, questa settimana è stata al centro dell'attenzione e della polemica Per gli scarichi fognari e l'assenza di un depuratore Quindi si parla dell'inquinamento del fiume e del mare di Pescara Come ha preso questa notizia? Molto male perché essere sbattuti in prima pagina A parte l'insonnia notturna Ma mi ha dato la lucidità E ringrazio lei che mi dà l'occasione di chiarire alcuni aspetti Mi dà la lucidità e soprattutto peccato il confronto mancato con gli altri sindaci Per stabilire le reali responsabilità Ci tengo a precisare che l'ente gestore LACA Questa è il lunedì e dal 2000 l'ente gestore LACA gestisce Rete Idriche e Rete Fognari Nei comuni 64, provincia di Pescara, Chieti e Teramo Compreso ovviamente Tocco da Casauria Questa amministrazione ha ottenuto un finanziamento Oggi si tratta di tramutare il finanziamento, la carta, il lavoro vero, concreto Finanziamento da quanto? Esattamente un milione d'euro Come verrà redistribuito? Quali saranno le opere? Le opere saranno le tre che sono le criticità della rete fognaria di Tocco da Casauria Uno, realizzazione di un impianto di depurazione in località Francoli Che servirà il 20% della popolazione toccolana più le due frazioni, Francoli e Rovetone Il secondo lavoro, ampliamento dell'attuale depuratore in località Ceppeto Quindi smentisco il fatto che Tocco non ha il depuratore Terzo, il mancato allacciamento che fa dire all'opinione pubblica Tocco non è il depuratore Quindi è il terzo lavoro da realizzare L'allaccio sul collettore per portare il famoso DK15, tanto abusato come termine Per portare la rete fognare dell'80% delle famiglie di Toccolana al depuratore di località Ceppeto Io in trasmissione prima le dicevo che avrei preferito la presenza del sindaco di Pescara Facendogli notare che far uscire la notizia che l'inquinamento è a monte e non a valle è sacrosanta Ma puntare il dito su una popolazione di 3.000 abitanti a fronte di una provincia che non conosco il numero degli abitanti Ma certamente non possiamo essere gli inguinatori del fiume Pescara Il sindaco di Tocco da Casauri a Luciano Lattanzio sarà tra gli ospiti della trasmissione Sena-Bruzzo Curata e condotta da Francesca Romana Testi Questa sera alle ore 21 su TV6 si parlerà appunto del caso inquinamento del fiume e del mare a Pescara Ed ora cambiamo pagina, parliamo del processo Sanitopoli La Corte d'Appello dell'Aquila ha depositato le motivazioni della sentenza Ribadita la credibilità del grande accusatore del processo Vincenzo Angelini Ex patron di Villapini, l'ex governatore del Turco invece punta sulla Cassazione per essere assolto Parla di assoluzione travestita da condanna l'ex governatore della regione Abruzzo Ottaviano del Turco Commentando le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila In relazione al processo Sanitopoli In base alla quale lo scorso 20 di novembre è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione Per induzione in debita, la vecchia concussione per induzione modificata dalla legge Severino Nelle 571 pagine delle motivazioni si legge tra le altre cose Che secondo la Corte non può essere ragionevolmente messa in dubbio la credibilità soggettiva ed oggettiva di Angelini E le sue dichiarazioni rispondono positivamente al requisito della precisione Avendo fatto riferimento a fatti e circostanze precisi Che trovano un significativo aggancio nel succedersi delle vicende politiche, legislative ed amministrative Relative al periodo di volta in volta interessato dalle sue dichiarazioni Tra le altre cose i giudici aquilani evidenziano che l'ex imprenditore della sanità Al momento delle dichiarazioni eteroaccusatorie non era sottoposto a misure cautelari di alcun tipo Sicché non sussisteva neppure tale ulteriore profilo potenzialmente utilitaristico A giustificare, quando anche su un piano meramente logico, la volontà maturata di aprirsi con gli inquirenti Dunque sulle affermazioni della Corte d'Appello si riaccende il duello tra accusatore ed accusato Tra Angelini e del Turco Il signor Angelini aveva raccontato di essere stato costretto per ben 27 volte A portarmi affannosamente denaro nella mia casa di Collelongo, ricorda del Turco La Corte ha ritenuto insussistenti ben 23 episodi contestati su 18 capi di imputazione Dunque, prosegue l'ex governatore Di 6,2 milioni di euro che Angelini ha raccontato di avermi consegnato in poco meno di due anni La Corte d'Appello ne salva una quota irrisoria Ma per la stessa Corte l'impianto accusatorio regge perché l'ex patron del gruppo Villapini Pur essendosi dichiarato vittima di fatti concursivi Con le sue dichiarazioni ha in concreto riferito fatti oggettivamente tali Da esporlo a possibili accuse a suo carico Cosa che poi si è verificata nel processo Quindi sarà ancora sulla credibilità di Angelini Che si giocherà l'ultimo atto del processo sulle tangenti nella sanità abruzzese Con del Turco che annuncia che proprio di ciò Si occuperanno i suoi difensori nel ricorso per Cassazione Che si celebrerà a Roma Lontano, dice, per quanto possibile Dalle atmosfere, dagli umori, dai condizionamenti Che hanno pesato sulla dinamica degli atti processuali Giornata aquilana per il neo sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli Sul tavolo l'argomento principale ovviamente non può che essere la ricostruzione L'attenzione per l'Aquila resta alta e la ricostruzione è una delle priorità nazionali Lo assicura il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli Nuovo centrodestra che ha oggi incontrato a Palazzo Fibbioni Accompagnata dal consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis Il sindaco Massimo Cialente Il vice sindaco Nicola Trifuoggi E il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci Oggi sono qua per ascoltare i problemi della città Per mettermi a disposizione Come d'altronde ho sempre fatto anche quando facevo soltanto il senatore Io sono stata relatrice dei provvedimenti più importanti che hanno riguardato l'Aquila Cioè il decreto enti locali e la legge di stabilità E posso assicurare che sull'Aquila c'è un'attenzione continua e costante del governo Grazie anche al grande lavoro che io riconosco ai rappresentanti sia del territorio aquilano Che della regione Abruzzo che di tutte le parti politiche hanno preferito mettere l'Aquila al centro E non i propri partiti E quindi io credo che come si è fatto in passato anche per il futuro Tutte le necessità dell'Aquila saranno accolte Io credo che in questo completamento della squadra di governo abbiano contato altri tipi di equilibri D'altronde io al governo rappresento una forza politica diversa dal partito democratico E quindi queste sono le ragioni per le quali al governo in questo momento ci sono io E ora parliamo del protocollo d'intesa Che era stato firmato lo scorso 16 dicembre Per potenziare l'organico degli uffici giudiziari di Teramo Un protocollo che era stato sottoscritto dalla regione Abruzzo e dalla procura Ma che non ha prodotto risultati utili ed è stato definito letteralmente inutile Vediamo L'accordo presentato e firmato in Pompa Magna lo scorso 16 dicembre 2015 Con tanto di passerella e firma davanti ai presenti dal presidente della regione Luciano D'Alfonso Non è servito a nulla Il supporto promesso al tribunale dalla regione infatti per potenziare l'organico degli uffici giudiziari Non ha prodotto risultati Sono solo due le domande arrivate Una è stata revocata L'altra è disponibile solo due giorni a settimana La montagna ha portorito un topolino Parole del procuratore di Teramo Antonio Guerriero Che deluso è tornato a parlare della cronica carenza di organico che affligge gli uffici giudiziari Colpa di nessuno Il problema è che a seguito questo protocollo finora ci sono state poche domande Quindi l'invito che facciamo alle persone che sono abilitate a fare domande Perché se non fanno domande noi non possiamo assumere E abbiamo bisogno fondamentale di personale perché gli impegni, gli affari stanno crescendo sempre di più Le esigenze dei cittadini crescono e noi a queste esigenze dei cittadini dobbiamo dare una risposta immediata Abbiamo pochi cancellieri, molti sono anziani e stanno per andare in pensione Aggiunto il procuratore In questo momento inoltre, come procura, siamo privi anche del dirigente amministrativo Una situazione difficile soprattutto in un momento nel quale, come sottolineato da Guerriero Soprattutto lungo la fascia costiera Ci sono situazioni che stanno degenerando Con fenomeni criminali che vanno controllati e combattuti La collaborazione tra Regione, Tribunale e Procura era stata così motivata e presentata dal Presidente D'Alfonso Un'abbondanza, quella della Regione 1.547 dipendenti Con un bisogno di formazione, di affinamento formativo Che hanno i dipendenti della Regione Si combini con un'esigenza, con una mancanza Che è quella del Palazzo di Giustizia, in questo caso di Teramo Per fare in modo che si determini a favore degli uni Una prestazione collaborativa professionale A favore nostro un dato di formazione In sostanza veniva riprodotto un modello Che è già in applicazione all'Aquila Vasto, Lanciano e Avezzano Che però con Teramo non ha funzionato Visita in Abruzzo e a Pescara In particolare per l'ambasciatore della Mongolia Che accompagnato dal Senatore Antonio Razzi Ha incontrato il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini E il Presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Becci Senatore Razzi, qui a Pescara oggi Alla Camera di Commercio con l'ambasciatore della Mongolia Per far conoscere un po' l'Abruzzo sicuramente Ma a parte far conoscere l'Abruzzo Ma cercare di concretizzare le cose Insieme al Presidente Daniele Becci Stiamo lavorando da diversi anni E diversi ambasciatori portato qui alla Camera di Commercio Proprio per cercare di sviluppare al massimo la nostra regione Quello che stiamo facendo All'ambasciatore chiediamo quali relazioni si possono stringere Soprattutto è sviluppata tantissimo sull'agricoltura Per questo motivo sono oggi qua per studiare e ricercare le vie Possibilità di collaborazione insieme con il nostro paese Oggi soprattutto la Mongolia sta sviluppando tantissimo l'industria Industria pesante e anche industria leggera Per questo motivo sono qui oggi per presentare La commercialista oppure gli uomini di acquari di Pescara Per presentare un po' di possibilità di nostro paese In che maniera potete investire e come collaboriamo Presidente Becci, un altro stato estero arriva qui a Pescara Oggi si tratta della Mongolia Si possono stringere relazioni anche sicuramente commerciali Sicuramente è un paese che vuole farsi conoscere Da un punto di vista turistico ha dei numeri interessanti Poi c'è anche il discorso di interesse da parte delle nostre imprese In particolare il settore tessile È un settore che esporta dei numeri discreti Se riusciamo a presentare questo paese a trovare dei comuni interessi Credo che di prospettiva per le nostre aziende Che hanno tanta necessità di esportare Può essere un'ulteriore occasione Risparmio in bolletta e maggiore efficienza per l'utenza Questo è l'obiettivo della proposta di legge Per l'istituzione di un ufficio regionale centralizzato Per l'acquisto di energia elettrica e gas Una proposta presentata dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Pertinari state presentando questa proposta di legge Che abbassa i costi, offre un migliore servizio alle utenze Per quanto riguarda le bollette di luce e gas agli utenti abbruzzesi Sì, tutti sappiamo che dopo la liberalizzazione del mercato Avvenuta nel 2003 e nel 2007 per l'energia elettrica e il gas Invece di diminuire purtroppo i costi sono aumentati Noi come legislatori regionali abbiamo presentato questa proposta di legge Che emira, tende a far risparmiare i soldi ai cittadini Sulle bollette dell'energia elettrica e del gas In che modo? La regione si fa capofila con un ufficio centralizzato Per l'acquisto di energia elettrica e il gas Farà un bando pubblico per trovare il gestore più conveniente sul mercato E poi con un'adesione da parte dei cittadini a questo ufficio centralizzato Si andrà a concludere i contratti, a stipulare i contratti Quindi cosa accadrà? Non sarà più il singolo cittadino che andrà a stipulare il contratto con la singola compagnia Quindi ad un prezzo maggiore Ma sarà la regione in rappresentanza di tutti i cittadini che vorranno aderire A contrattare con il gestore e quindi sarà il gestore più conveniente Perché per la prima volta non sarà il gestore che imporrà un contratto Ma sarà la collettività dei cittadini che con la forza del gruppo dell'adesione Andranno ad imporre il vero contratto più conveniente e il servizio più conveniente al mercato E ora apriamo la pagina dello sport Lo facciamo attraverso la schermata di questa 27esima giornata del campionato di Serie B Una giornata che si aprirà questa sera con l'anticipo tra Bari e Latina I due posticipi saranno domenica Salernitana Crotone e lunedì Perugia Trapani Le gare di domani ore 15 Ascoli-Como, Cagliari-Pescara, Livorno-Cesena, Modena-Brescia, Novara-Ternana, Provercelli-Virtus-Entella, Spezia-Virtus-Lanciano e Vicenza-Avellino Chiaramente grandi attenzioni sul big match del Sant'Elia di Cagliari Un big match cui purtroppo per il Pescara i biancazzurri arrivano con diverse defezioni Soprattutto in difesa Ma per le ultimissime ci colleghiamo con Cagliari Dove c'è la nostra troupe con Paolo Renzetti e Gaetano Tereo Per le ultimissime Buonasera Paolo Grazie Andrea, buonasera da Cagliari Stiamo dinanzi l'hotel Holiday Inn a Cagliari Cagliari-Elmas a due passi dall'aeroporto Per questa vigilia molto attesa della gara di domani Al Sant'Elia tra Cagliari e Pescara Come hai detto giustamente tu Pescara in formazione rimaneggiata Soprattutto per la formazione biancazzurra Per la squadra di Massimo Otto Ci sono grossi problemi di formazione per quanto riguarda la difesa Ma una partita che il Pescara vuole giocarsi fino in fondo Noi abbiamo qui un gradito ospite Che ci sta raggiungendo in postazione Dino Zampacorta Tra l'altro sponsor del Pescara Ma tifoso anche della formazione biancazzurra Grazie Dino Siamo in diretta per il nostro telegiornale Oggi a Cagliari per seguire questa partita Domani una partita molto attesa Molto importante Peccato per qualche assenza di troppo in difesa nel Pescara Sì, questo sicuramente un po' ci penalizzerà Spero di non il risultato Sicuramente a bocce ferme L'assenza di Campagnaro, di coda I due centrali sono importanti in tutte le squadre Sono qua perché ho diversi clienti anche nel Cagliari Quindi ho approfittato Ovviamente tifo Pescara, loro lo sanno Gli ho appena comunicato telefonicamente Io credo che sia una bella partita domani Mi auguro da pescarese che la portiamo a casa Ma credo che anche un risultato di parità ci possa andare bene Non voglio essere presuntuoso Giochiamo contro la prima in classifica È una squadra attrezzata per stravincere il campionato Non la sto stravincendo E credo che il Pescara per come è partito sta facendo grandi cose E mi auguro che domani faccia grandissime cose Partita Dino importante ma ovviamente non decisiva No, assolutamente In Serie B la storia insegna che i campionati si vincono O si perdono per una traversa Purtroppo l'anno scorso è andata in quel modo lì che tutti sanno Il Bologna si trova in Serie A con due colpi di fortuna Una con noi e una con l'Avellino Ma i campionati si vincono dalla quinta ultima in su di campionato Quindi se noi siamo lì ci siamo per merito Spero che la squadra mantenga questa condizione Con l'arrivo anche del bel tempo sicuramente gli infortuni saranno molto meno Non solo per noi ma anche per gli altri Ma se noi siamo al completo Credo che non abbiamo nulla da temere né dal Cagliari Tantomeno dal Crotone E detto noi, quindi ormai sei sponsor del Pescara Però qualcuno chiede quando Zampacorta diventerà dirigente del Pescara No, 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 ma a prescindere da sponsor adesso andiamo serio Mi è stato chiesto di dare un contributo L'ho fatto molto volentieri perché è la squadra della mia città Me l'avevano chiesto tantissime altre squadre Come sapete, sono 25 anni che lavoro nel mondo del calcio Sono stato legato per 15 anni in un'altra società su al nord Ma io sono un tifoso pescarese Insomma, voglio dire, il Pescara per me deve vincere Deve vincere adesso, deve vincere prima Se poi vince con il mio logo dietro Vuol dire che portò anche fortuna Quindi è ancora meglio Bene, grazie Grazie a Dino Zampacorta Io chiamo vicino a me Ringrazio il collega Enrico Rocchi Ciao Paolo Ciao Enrico Buonasera Allora, parlavamo con Dino Zampacorta Di questa partita Enrico importante Non decisiva Peccato non poter disporre di tutti gli effetti Soprattutto in difesa Tante assenze pesanti Sì, però come dice Intanto Buonasera Come dice giustamente il tecnico Oddo Le assenze fanno parte della storia di un campionato E il Pescara Nonostante abbia questa rosa molto ampia Ha questa emergenza in difesa Tutti dicono che giocherà a Mandragora Potrebbe essere una sorpresa Perché andando poi a ritroso nel tempo Il Pescara scoprì un difensore Mi riferisco alla stagione 1977 Galbiati Che era un centrocampista di qualità Fu impiegato a Brescia come libero Proprio per una necessità Per tanti infortuni E Galbiati poi è diventato uno dei difensori più forti Di taglia di quel tempo Ricordi poi nell'Inter e nella Fiorentina Poi c'è un altro caso Quello di Salomon Che è partito centrocampista Ed è diventato un difensore di spessore Ci auguriamo che Mandragora Se lui si imporrà come centrocampista Benvenga Mandragora in quel ruolo Altrimenti ha un'altra posizione in campo Che potrebbe dargli delle soddisfazioni Quindi non bisogna mai avere come alibi Quello dell'assenza Qui a Cagliari visto c'è molto entusiasmo Forse ci sarà il tutto esaurito Enrico c'è anche un altro dubbio Per quanto riguarda la porta Perché sia Fiorillo che Aresti Sono reduci dall'influenza Solo domani Oddo deciderà chi far scendere in campo Ecco questo può essere un problema Ci auguriamo che almeno uno dei due stia bene Altrimenti ci sarà il vecchio Aldegani Che quando è stato chiamato in causa Ha dato il suo contributo Ripeto non devono esserci alibi Certo importa Speriamo che ci sia o Fiorillo o Aresti Altrimenti andrà avanti con Aldegani Bene grazie Grazie a Enrico Rocchi Domani Radio Cronaco su Radio California Noi saremo in diretta per diretta stadio La squadra sta cenando Andrea proprio all'interno dell'albergo Qui alle nostre spalle C'è comunque un clima di moderato ottimismo Ovviamente i biancazzurri pronti A giocarsi tutte le loro carte Domani nella gara con il Cagliari Al Sant'Elie Come diceva Enrico Rocchi Ci sarà il tutto esaurito Con 16.000 spettatori E' tutto qui da Cagliari Dall'esterno dell'hotel Holiday Inn di Cagliari Io ringrazio Gaetano Terio Per l'assistenza tecnica E restituisco la linea allo studio Grazie, grazie a Paolo Renzetti Buona partita a Dino Zampacorta Buon lavoro a Paolo Renzetti Gaetano Terio Enrico Rocchi Domani in appuntamento Già ricordato Con diretta stadio Poco prima delle ore 15 Per seguire le gare di Serie B In particolare Ma giocherà anche l'Aquila Parliamo ora di Lanciano Un Lanciano che già da ieri È partito alla volta della Liguria Domani il match contro lo Spezia Che è una sorta di bestia nera Della squadra rossonera Sarà la partita da ex Per Antonio Piccolo Con Maragliulo che cerca La terza vittoria consecutiva Maragliulo orfano di Milinkovic E Zeduardo in servizio Virtus Lanciano alla Spezia Con il dubbio del modulo Il gruppo guidato da primo Maragliulo È partito ieri per la Liguria Dopo l'allenamento mattutino a San Buceto Della spedizione non fanno parte L'esterno Manuel Milinkovic Che nei giorni scorsi Ha rimediato un colpo alla coscia E il centrocampista Zeduardo Ancora vittima di una distorsione alla caviglia Maragliulo potrebbe puntare ancora sul 4-4-1-1 Anche se negli ultimi giorni Il neotecnico ha provato un 4-3-3 Speculare a quello degli avversari Una delle principali novità Sarà la presenza da titolare Di Manuel Giandonato Il giocatore originario di Casoli È cresciuto nelle giovanili della Juventus Giandonato finora è sempre subentrato Dalla panchina E ha dato buone risposte Il sacrificato sarà Rocca Una mossa destinata a liberare Maggiormente nella metà campo Offensiva vitale In attacco In caso di due punte Spinge per una maglia Da titolare Federico Bonazzoli Dopo il gol partita contro il Modena Il ballottaggio è con l'ex Ferrari Chi è sicuro di una maglia È Guido Marilungo Due assist nella gara vinta col Modena Il giocatore di proprietà dell'Atalanta In grande ascesa Il suo apporto è imprescindibile In difesa Di Matteo riprenderà posto a sinistra Con Salviato Aquilanti e Amenta A completare la linea di difesa Il tecnico dello Spezia Mimo Di Carlo Ammonisce i suoi Sulla pericolosità della Virtus Specie in contropiede La squadra Ligure sarà priva degli squalificati Misic e soprattutto Calaio Squalificato e reduce dalla doppietta Che ha steso il Livorno Migliorano le condizioni di Juande Che è convocato Ma certamente non sarà dei titolari Sarà confermato il 4-3 Con Nenea al centro dell'attacco Scitum a sinistra Ed è a destra Il grande ex Antonio Piccolo Non sarà una giornata come le altre Per lui dopo le stagioni in Frentania I tanti gol segnati E quel addio recente In parte burrascoso Dopo il botte e risposta A distanza con la proprietà In campo anche l'altro ex Il terzino Filippo De Coll Primo Maragliolo Cercherà di allungare a tre La striscia di vittorie consecutive Ma non sarà facile Contro un avversario Che la Virtus Non ha mai battuto Sei pareggi e tre sconfitte I precedenti E che cerca punti Per proseguire la rincorsa playoff Direzione arbitrale Affidata a Pairetto Della sezione di Nichelino Per quanto riguarda la Lega Pro Oggi ecografia Per l'attaccante del Teramo Mirko Petrella Una ecografia che ha evidenziato Una lesione di un centimetro Nel capo breve Del bicipite femorale Della coscia sinistra Mercoledì prossimo Verrà effettuata Un'altra ecografia di controllo Per valutare il decorso E i relativi tempi di recupero Ma sicuramente Petrella Salterà il match di domenica In casa della Lupa Roma E poi quello successivo Albonolis contro la Maceratese C'è comunque entusiasmo In casa Teramo Dopo gli ultimi risultati Come dichiara anche Il portiere Alessandro Tonti Quello Purtroppo dico Perché noi non ci possiamo fare niente Sotto quell'aspetto Noi dobbiamo pensare A campionato Dobbiamo pensare a giocare Poi Come dice il nostro presidente Tra virgolette Saranno solo Punti in più Anche se noi sul campo Li abbiamo conquistati Ripeto Al di là del modulo La cosa fondamentale È l'atteggiamento La concentrazione È logico che Nelle ultime partite Siamo stati Leggermente sfortunati Perché magari Alla prima occasione Al primo Errore Veniamo puniti Domenica Invece non è stato così Non abbiamo subito gol Che è una cosa molto fondamentale Abbiamo vinto per 2-0 E quindi Sicuramente Ci deve dare una mano A livello psicologico Il mister ci ha chiesto La prima cosa Di non guardare assolutamente La classifica E pensare Partita per partita Che penso sia La cosa più giusta E come ho detto In precedenza Dobbiamo affrontare Partita per partita E facendo più punti possibili Poi alla fine Tireremo Tireremo le somme Sicuramente Non esistono Partite facili Ogni partita Ha il suo Che Quindi Sarà Una lotta Sicuramente È molto difficile E andremo Sicuramente Per Giocare per i tre punti Che penso Sia la cosa fondamentale E tutto per questa Seconda edizione Del TG6 La prossima La terza Alle ore 23 Grazie per l'attenzione Buona serata Grazie per l'attenzione Grazie a tutti.